Ed eccoci qua, siamo ritornati più freschi di prima, freschi direi sicuramente perché la temperatura esterna penso sia scesa al pari quasi zero. Siamo qua in compagnia di Giulia Landini, sicuramente non mi dimenticherò il tuo nome perché è esattamente uguale al mio, quindi sarà ancora più facile conversare. Ma passiamo dalla cucina alla cucina sotto un altro punto di vista, ovvero noi parliamo adesso di autoproduzione di detersivi in casa. Grazie a Giulia anche perché Giulia è un'amante nonché autoproduttrice di detersivi, di ecodetergenti per la casa e oggi insieme a Giulia impareremo con pochi ingredienti, veramente pochi e di facile reperibilità, ad autoprodurci tre tipi di detersivi da utilizzare nel nostro quotidiano per la cura della nostra casa, della nostra cucina. Giulia, a te la parola e innanzitutto benvenuta per essere qui con noi, grazie mille e grazie a tutti voi che ci state ancora ascoltando. Grazie, grazie Giulia. Bene, ciao a tutti, grazie di essere qua nonostante la temperatura è poco carina. Allora io oggi vorrei darvi qualche spunto per produrre in casa tre detersivi ecologici, quindi diciamo ecologici ed economici anche, che insomma di questi tempi non guasta, con degli ingredienti che alcuni sono proprio di uso comune, altri stanno cominciando ad esserlo, quindi magari poi mi direte anche voi se li conoscete. Questi sono appunto gli ingredienti che andremo ad utilizzare, parto dagli ingredienti che sono, come avete visto prima, sapone di Marsiglia, sapone ecologico in panetto da grattugiare, possibilmente ecologico ovviamente, questo ci arrivo dopo, del percarbonato di sodio, non so in quanti di voi lo conoscono, percarbonato e acido citrico che sono due ingredienti, ok, percarbonato di sodio e acido citrico, della fecola di patate, che insomma, voglio dire, è molto conosciuta, carbonato di sodio, che forse lo conoscete di più con il nome di soda da bucato, che si trova anche, insomma, è un ingrediente abbastanza comune, e quest'altro ingrediente che probabilmente non conoscete, che è il citrato di sodio, che si può comprare già fatto, appunto sul sito della Macro Librazi lo trovate, oppure ci si può anche fare in casa. Adesso verranno date le ricette, giusto? Assolutamente, sì. Nelle ricette che vi ho preparato, poi che vi porterete a casa, l'ultima ricetta è proprio del citrato di sodio o sodio citrato, si può chiamare in entrambi i modi, lo potete trovare in entrambi i modi, quindi potete o acquistarlo oppure farvelo in casa. Io me lo sono fatto, quindi ecco, diciamo che quando lo trovate in vendita è in polvere, quindi è tipo il percarbonato, invece se ve lo fate a casa viene liquido, quindi questo poi a seconda del vostro tempo e voglia di sperimentare. L'ultimo ingrediente, che è diciamo una coccola, sono queste polveri profumanti, si chiamano i floreali, e sono proprio delle polveri ecologiche, poallergeniche, per profumare il bucato. Io le uso proprio per fare il detersivo in polvere che faremo adesso, però appunto si trovano anche come normali i profumatori per chi ha il detersivo già pronto, diciamo. Le ricette che faremo sono delle tabs per la lavastoviglie, un detersivo in polvere per il bucato, e infine una soluzione che probabilmente, insomma in tanti già questa la conoscono, a base di acido citrico, che è una soluzione veramente, cioè ci potete fare un sacco di cose, quando poi la farò vi spiegherò. L'altro ingrediente è l'acqua demineralizzata, vi rispondo già alle domande che sicuramente mi farete, si può utilizzare l'acqua del rubinetto, si può utilizzare l'acqua del condizionatore? No, bisogna proprio per fare la soluzione a base di acido citrico, in generale tutti i detersivi fatti in casa, è proprio importante che usiamo acqua demineralizzata, perché l'acqua del rubinetto contiene tanti sali, e l'acido citrico, siccome si lega ai sali e quindi li va a sequestrare, idem per il sodio citrato, tende a annullarsi, quindi è proprio importante che utilizziamo già un'acqua privata del calcare, insomma dei sali. Quindi questa domanda ce l'abbiamo già giocata. Allora, partiamo dal detersivo in polvere, visto che è per bucato, visto che prima ho cominciato già a farlo. Allora, per fare questo detersivo, come vi dicevo, basta. Un panetto, le dosi che vi ho messo nelle dispense sono per 15 lavatrici, all'incirca, avete anche poi dopo le indicazioni per come utilizzarlo, e per 15 lavatrici appunto servono circa 300 grammi, oggi ne farò un pochino meno, però poi appunto avete tutto scritto. Allora, una considerazione sul detersivo, sulle saponette che comprate, deve essere sapone di Marsiglia, come vi dicevo, possibilmente ecologico e bio. Io ho preso questo qua della saponaria, però insomma ce ne sono anche di tanti tipi. Solitamente quelli ecologici però hanno la caratteristica di essere molto morbidi. Infatti, prima avevo le mani bagnate, le ho toccate, proprio avevo subito le mani saponate. Sono morbidi perché sono proprio fatti apposta per quelli per il bucato. Invece ci sono alcuni tipi che sono già secchi, ok? Non sto a fare altri nomi, però per rimediare a questo, per non andare a comprare magari un sapone non ecologico, si può aprire. Ho in mente di fare il detersivo tra una settimana, lo apro circa una settimana prima e lo lascio all'aria, ok? Lasciandolo all'aria, anche al sole diretto ovviamente, magari anche in penombra, comunque lasciandolo all'aria si asciuga, ok? Quindi più voi lo lasciate fuori, lo aprite, più il sapone si asciuga. Questo permette che quando lo grattugiate vedete che si impacca. Quando è molto fresco tende a impaccarsi. Se invece è secco, quando voi lo grattugiate avete proprio la polverina di sapone molto fine. Poi anche lì dipende molto dalla grattugia, ho portato questa che è un po' grossolana. Più prendete la grattugia fine, ovviamente più la polvere è fine. Quindi grattugia fine, il panetto di sapone secco abbastanza asciutto, più la polverina diventerà fine. E quindi più funzionerà meglio, perché ovviamente la vostra lavatrice impiegherà meno fatica a sciogliere il sapone, ok? Quindi più fine riuscite a farlo, meglio è. L'alternativa è che se non lo trovate secco, non è asciutto, per tutta una serie di motivi, lo fate. Lo potete grattugiare, lo tenete già grattugiato all'aria, ok? Oppure lo fate, fate tutto l'assemblamento che adesso vi spiego e lo lasciate proprio steso magari su un vassoio asciugare. Proprio già il detersivo fatto, ok? Questi sono un po' i trucchetti che in questi anni ho imparato. Quindi adesso lo vedete un po' così, un po' impaccato. Appunto basta prendere una grattugia e grattugiare il sapone, ok? Adesso questo finisco e così faccio le dosi corrette. Sì, infatti si nota che è molto filante quasi, sembra un formaggio. Sì, ovviamente se l'avessi grattato con la grattugia, quella ancora più fine, mi si sarebbe proprio impaccato, quindi sarebbe stato impossibile grattugiarlo. Invece con questa qua più grossetta si riesce a grattugiare, però sembra, esatto, sembra grana. Quindi questo dettaglio è molto importante, che appunto il sapone sia ben secco o comunque prima di utilizzarlo, perché più, diciamo, essendo detersivi fatti in casa, ovviamente non sono come quelli che si comprano, sono già perfettamente perfetti, ma sono appunto fatti in casa e come ogni cosa fatta in casa va un attimino adattata. Quindi più è secco e fine, vi lo ripeto, più la nostra lavatrice lo scioglierà bene e quindi laverà, ok? Se non è sciolto bene, non è amalgamato bene, non lava. Cioè fa più fatica a lavare, ok? Ok, facciamo che l'ho grattugiato tutto. Intanto colgo l'occasione per ricordare sempre il nostro numero WhatsApp, dove sia il pubblico dal vivo che il pubblico online può eventualmente inviare le domande da porre a Giulia. può scriverle al numero 388 834 2776, poi dopo le mie colleghe me le gireranno e io le potrò dire al microfono, ma non perché io sia particolarmente carina e simpatica, ma semplicemente perché il microfono riesce a rendere accessibile ogni domanda a tutti, sia a voi che siete qui che al pubblico che ci sta guardando da casa. Ok, allora, una volta che abbiamo grattugiato il nostro sapone, fatto essiccare, bla bla bla, è molto semplice, si prende una ciotola bella capiente e si mescolano tutte le polveri. Quindi mettiamo o il carbonato o il percarbonato o per primi, fa lo stesso, quindi metteremo in questo caso il carbonato. se si accende. Opla, ce la facciamo. Dai. No. L'umidità. Scusate la bilancia. È sempre bello della dirata. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Mettiamo la nostra dose di carbonato. Opla. Poi mettiamo il percarbonato. Il carbonato, avete visto, è proprio una polverina, sembra farina di riso. Il percarbonato, invece, per chi non lo conosce, è sempre una polvere, però è fatto a pallini. Ok? Le dosi ci sono scritte nella ricetta. Sì, poi tutte, esatto, le dispense, le ricette di Giulia le faremo tutte. Allora, comunque sono 300 grammi di sapone di Marsiglia, 50 di percarbonato, 150 di carbonato. Sono rimasta indietro prima con il carbonato, l'ho messo poco. Aggiungo un po' di carbonato che ero rimasta indietro con le dosi. E prendiamo un semplice messo, un cucchiaio. Io vi consiglio di, diciamo, le attrezzature che utilizzate per fare i detersivi, cioè rimangano solo per i detersivi, ok? Perché, appunto, sì, sono detersivi, poi basta sciacquarle, però, insomma, se poi vi appassionate, come mi è successo a me, ho la mia scatolina con tutti i miei bottigliette e cose per fare. Quindi mescolate. Vedete che già le polveri riescono a asciugare un po' il sapone. Quindi, però, comunque, si impacca un pochino. Eventualmente ci si può mettere dei guanti, che io adesso non lo farò, però possiamo metterci dei guanti e proprio, tipo, impastare con le mani in modo che il sapone, comunque, già si divide ancora di più. Poi, ok, questo l'ho messo. L'ultimo ingrediente che mettiamo, il penultimo, è la fecola. Dessite, ma cosa serve la fecola? La fecola serve per, diciamo, come fa la fecola nei dolci, serve proprio per unire, ok? Quindi è quell'ingrediente che mi serve, poi, a non far andare per i fatti propri tutti i vari ingredienti dentro, quando il detersivo va dentro la lavatrice, ok? Quindi ne mettiamo, in questo caso, 100 grammi. Faccio un po' occhio perché ho fatto dosi più piccole. Quindi ne metterò, ecco, 80. E la fecola ancora va a asciugare, ancora di più degli altri, quindi ancora mescolo, oppure, appunto, con i guanti, con le... vado a impastare direttamente con le mani. Allora, in questo caso, per esempio, la saponetta era già profumata, quindi sa proprio di profuma di limone, in questo caso, se non mi sembra, sì. È molto... Titri e citronella. Ecco, citronella, infatti. Se, appunto, volete, c'è la possibilità di aggiungere queste polveri, che, come vi dicevo prima, sono polveri profumanti, per avere il vostro bucato profumato. Sono, tra l'altro, di diversi tipi, quindi ad ogni... si può aggiungere direttamente in lavatrice, insieme al detersivo, oppure direttamente nel barattolo. Io, in questo caso, ne aggiungo un misurino, ma ne potete aggiungere quanto vi piace, perché sono dosabili. E sempre vado a mescolare. E il mio detersivo è finito. Quindi, a patto che il sapone sia bello asciutto e tutto il resto, se non ho bisogno di andare a lasciarlo fuori per farlo asciugare, prendo un contenitore, possibilmente un contenitore che non sia riconoscibile, soprattutto se ci sono bambini in casa, perché, sapete, i bambini riconoscono, cioè non vado a prendere il barattolo del cioccolato, insomma, un barattolo, ecco, possibilmente che il bambino non lo riconosce, è anche messo in zone... bisogna sempre dirle queste cose, perché non è per nulla scontato, sicuro, e lo metto dentro, lo confeziono. Va benissimo anche della carta, quindi un sacchetto di carta, oppure il vetro va bene anche per questo tipo di detersivo, la plastica, quindi va bene qualsiasi tipo di barattolo per conservarlo, lo etichetto, possibilmente scrivo tutti gli ingredienti che ho utilizzato per quel detersivo e metto per quando l'ho fatto. Diciamo che non è che hanno proprio una data di scadenza questi detersivi, si tiene circa un sei mesi, perché comunque il percarbonato, che è un ingrediente che abbiamo messo dentro, da quando apro il sacchetto ha una durata di sei mesi, ok? Quindi mettiamo sei mesi come data di scadenza. Mi raccomando, tenetelo per favore in un contenitore comunque non trasparente, quindi anche se è stato un vaso di vetro, abbiate cura di riporlo in un posto dove non c'è la luce, perché con la luce si altera, ok? Soprattutto il carbonato e il percarbonato, che sono due ingredienti molto sensibili. Quando andate ad utilizzarlo, ovviamente dispende sempre dalla lavatrice, da un sacco di cose, però tendenzialmente vi è scritto mettere due cucchiai di detersivo nella vaschetta, quindi due cucchiai da minestra, ok? Oppure anche mezzo, prendete il misurino dello yogurt, barattolino da 120, mezzo, ok? Mettete nella vaschetta del detersivo oppure direttamente nel cestello anche. E sempre, mi raccomando, insieme potete mettere, allora se comprate il sodio citrato già in polvere, potete aggiungerlo direttamente alla preparazione, ok? Se invece lo fate in casa, il sodio citrato, e nelle dispense avete anche la ricetta qua per farvelo in casa, ogni volta che utilizzate dovete mettere insieme anche questo, ok? Se io metto questo adesso mi diventa liquido, quindi no, lo tengo a parte, e ogni volta che metto questo nella vaschetta della lavatrice, aggiungo anche questo, in 50 ml, ok? 50 ml, quindi vi prendete un misurino, 50 ml di questo ogni volta, ok? Che utilizzate la polvere. Sono già arrivate le domande. Ok, facciamo domande finali. No, ok, adesso... Come vuoi tu, facciamo le domande finali. No, se no, adesso che abbiamo finito questo, facciamo le domande. Adesso proprio al sapone di Marsiglia. Perfetto. Perché comunque, come hai detto tu prima, se noi autoproduciamo in casa sappiamo già che cosa stiamo facendo. Sì. Però comunque anche affidarci a prodotti pseudo finiti, come può essere un sapone di Marsiglia, a volte è anche un po' difficile, perché siamo abituati a vederne scaffali pieni tutti i saponi di Marsiglia. Quindi ci chiedono da casa, come possiamo orientarci per scegliere un buon sapore, un sapone di Marsiglia il più genuino possibile, che caratteristiche secondo te deve avere e in inci, questo famoso inci, che cosa dovrebbe riportare? Allora, questa è la via più semplice per capire se un sapone di Marsiglia è veramente ecologico o no, è che ha l'inci. Perché solitamente quelli che hanno solo la composizione chimica non sono veramente ecologici. Per esempio, posso fare un nome? Prendo il sole di Marsiglia, conoscete tutto il sole di Marsiglia, se voi guardate dietro l'etichetta, trovate composizione chimica, ma non troverete mai scritto inci. Se invece prendiamo per esempio... Per dire saponaria, esatto. La saponaria porta tutti gli ingredienti. Ecco, questo è la... Senza mettermi... No, certo. Ogni ingrediente... Cosa? No, 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 diciamo certo. Questa è proprio la via più semplice. Quando all'inci vuol dire che non c'è da nascondere niente, quindi possiamo affidarci. Diciamo che sappiamo i siti dove trovarli, quelli più ecolosi, insomma lo sappiamo. Ci si può fare anche in casa anche il sapone di Marsiglia. Adesso non è questo il laboratorio, però ci sono tanti libri, tante ricette anche in internet proprio per farselo in casa. Il sapone di Marsiglia fatto in casa ci vuole un mesetto, quindi se ne fanno anche delle belle scorte e anzi, poi quello lo facciamo essiccare bene per un paio di mesi, basta un mese in realtà e però ne abbiamo anche... Quello diventerà bello secco, quindi potrebbe essere anche eventualmente un'idea. Grazie. Altre domande su questo? No, al momento no. Ok. Allora, vado avanti con il prossimo. Perfetto. Allora, il prossimo che invece faremo è un altro detersivo molto divertente che piace tanto anche ai bambini, infatti con i miei bimbi io lo faccio spesso, e sono le tabs per la vastoviglie. Allora, per fare le tabs per la vastoviglie ci vogliono sempre il nostro amico sodio citrato, ok? Questa volta è proprio meglio se lo facciamo liquido, se lo facciamo in casa, perché dobbiamo creare una cremina che poi si andrà a dessiccare, ok, per fare le tabs. Quindi, sodio citrato fatto in casa, poi ci vuole il nostro sempre solito, sono sempre soliti alla fine, il nostro amico carbonato di sodio, o soda da bucato, come abbiamo detto, il percarbonato, sempre lui, e poi, facoltativo, io non l'ho portato, possiamo mettere un cucchiaino di detersivo per piatti, possibilmente ecologico, ovviamente, perché dà quella botta di tensio attivo, ok, che con questi semplici ingredienti non abbiamo, ok? Quindi, in aggiunta alla nostra cremina, possiamo mettere anche questo cucchiaino di detersivo ecologico per piatti. L'attrezzatura che serve, serve uno stampino, quindi, questo qua sono quelli dei cioccolatini, in silicone, vanno bene anche quelli per il ghiaccio, ovviamente, il mio consiglio è che siano piccoli, perché quelli grossi per il ghiaccio, poi dopo dovete tagliare la tabs per forza in due, perché le vaschette, le conosciamo, non sono molto grandi, ok? In più, questi hanno la comodità che, quando le tabs sono secche, si ribaltano, ok? Quindi, come facciamo? Mettiamo sempre le nostre polveri, quindi in questo caso metteremo, faccio la metà perché sennò non so dove mettermela, Allora, faccio 200 grammi di carbonato, poi metterò 150, quindi faccio la metà, vabbè, 150 grammi di percarbonato, in questo caso io divido le dosi, ok, quindi carbonato per carbonato, il detersivo per piatti lo metto alla fine, e sempre mischio, ok, sempre con un cucchiaio questi ingredienti, un po' come fare, prima metto tutti i solidi, poi metto alla fine il liquido, un po' come fare un dolce, praticamente. Amalgamiamo bene questi due ingredienti, dopodiché possiamo prendere un misuratore, una brocca da misuratrice, e misuriamo il nostro sodio citrato, in questo caso ne metterò 200 ml, la ricetta che vi ho dato è il doppio, quindi saranno 400 ml, e poi lo metto praticamente dentro la mia ciotolina con gli altri due ingredienti e mescolo. la mescolo, e la consistenza dipende, cioè anche come quando cuciniamo, dipende molto dagli ingredienti che utilizziamo, quindi per esempio a volte tra carbonato e carbonato, o tra percarbonato e percarbonato cambia, ok, cambia la consistenza, anche il tempo, anche per queste cose qua, cambia, per esempio siccome andranno fatte essiccare, a volte in 10 minuti essiccano, a volte ci vuole un giorno intero, quindi bisogna avere un po' di pazienza, comunque tendenzialmente viene una cremina così, ok? Se ho il detersivo per piatti, aggiungo anche il detersivo per piatti. In questo caso col detersivo per piatti, aggiungendo il detersivo per piatti, cosa ci dobbiamo aspettare di cambio di consistenza? Qualche bolle in più eventualmente? No, anche perché ha un cucchiaino. Ok. Io vi dico la verità, non lo metto mai, cioè io lo faccio così, io mi trovo bene, però diciamo che il detersivo per piatti lo consiglio a quelle persone, secondo me non tutte le lavastoviglie sono uguali, non tutta l'acqua è uguale, quando vedete che non siete soddisfatti di come lavano, allora nella volta successiva, potete aggiungere un pochino di tensio attivo, che appunto lo trovate nel detersivo per piatti. Se invece vi trovate bene così, io vi direi di partire così senza, e poi eventualmente lo aggiungete le volte successive. Quando appunto sentite insomma che è mischiato abbastanza bene, non si mischierà mai benissimo, perché comunque il percarbonato è appunto a palline, quindi tende sempre un po' a rimanere così, lo mettete negli stampi. Qui a maggior ragione dobbiamo stare attenti a non avere bimbi attorno, perché pensano che sia cioccolatini di cioccolato bianco. O lo fate con loro se sono abbastanza grandi, insomma, da così poi sanno che sono quelle, però poi quando le mettete ad asciugare, ecco, magari mettetele in un punto... Ecco, stesso discorso poi per quando si saranno solidificate, bisogna aspettare che si solidifichino, ok? E anche qua il tempo è, come vi dicevo prima, è relativo. A volte si solidificano velocemente, a volte no. Bisogna aspettare un attimo. E anche qui, diciamo come... Scusa se faccio il paragone con i cioccolatini. Vai, vai. È più facile avere uno stampo di silicone per estrarli? Cioè, sicuramente è più facile rispetto alla plastica. È più facile rispetto alla plastica, perché con la plastica... Cioè, a volte vengono via velocemente, a volte devi stargli a battere lo stampino due ore. e quindi, insomma, il silicone è più... Ecco. Adesso un po' me ne è avanzata e vabbè. Allora, se dovesse, come ho fatto io, sbrodolare, non preoccupatevi, perché anche le scaglie, anche quando, per esempio, alla fine nella ciotolina possono poi rimanervi un po' di detersivo, no? Magari proprio la... Non buttatelo, ma... O proprio lo utilizzate come per lavare le lavastoviglie, magari senza provare a mettere il detersivo. Cioè, avete capito, no? La ciotolina messa come lavastoviglie. Oppure potete, con una palettina, togliere e diventano un tipo delle scaglie. Quindi non buttate via niente. Anche se vi rimane anche queste qua che rimarranno, voi toglietele. Sono delle scagliette che comunque potete utilizzare come detersivo. Quindi una volta che sono riempite, le lasciate asciugare, appunto, in un posto possibilmente asciutto il più possibile e non alla portata dei più piccoli. Potrebbero un po' gonfiarsi. Vedete, questa qua è già asciutta. Diventano durissime. Diventano proprio tipo scagliette. Dure, dure. Quindi, poi dovete anche vedere la vostra lavastoviglie. Perché, per esempio, a volte queste ci stanno. Però può darsi anche, magari comprate uno stampino, sono troppo grandi e poi ogni volta dovete stare a romperle. Romperle non è che sia proprio così facile. Quindi magari vi conviene prendere eventualmente uno stampino più piccolo. Fate un po' di prove, insomma. Magari utilizzate già quello che avete in casa e poi vedete un attimo, ok? Potrebbero gonfiarsi, quindi quando si mettono poi proprio li evitano un pochino. Ed è normale. Vuol dire che, insomma, stanno facendo il loro dovere. E basta. Quante ne utilizziamo? Allora, io di questa forma qua, diciamo, di questa grandezza qua, ne utilizzo una, ok? Però sempre non tutte le lavastoviglie, come dicevo, sono le stesse e anche tutti i programmi non sono uguali. Quindi dovete anche lì fare un po' di prove, ok? Un po', diciamo, come quando voi comprate il prodotto per la lavastoviglie già pronto, c'è scritto dietro, no? Anche lì l'acqua. Per acqua dura, se ci fate caso, consigliano delle dosi. Per acqua più morbida, consigliano altre dosi. Quindi con le cose fatte in casa, come vi dicevo prima, dovete un attimo prendere le dosi per le vostre, ecco, per le vostre macchine e per l'acqua che avete nella vostra zona. Diciamo che comunque per un... piatti sporchi, in una lavatrice standard, con un programma eco normale, una è assufficiente. Una è assufficiente, sì, sì, assolutamente. E adesso vengo a parlarvi dell'ultimo prodotto, l'ultimo detersivo che possiamo farci in casa, che è appunto la soluzione a base di acido citrico. e mi riallaccio perché questa soluzione qua, tra le mille... diciamo, dai mille usi che se ne possono fare, sono proprio... c'è quello proprio di metterla come brillantante della vastoviglie. Quindi, quando voi utilizzate le tabs, è assolutamente fondamentale, cioè non potete non farlo, mettere, riempire sempre la vaschetta del brillantante, avete presente, no? Quella è quella accanto alla vaschetta, riempirla sempre con questa soluzione. Perché ovviamente, diciamo, in generale, anche i prodotti detersivi ecologici delle aziende che li producono per la vastoviglie sono i prodotti quelli un po' più difficili, perché non possono contenere degli ingredienti che servono, avete presente quelli che poi fanno scivolare l'acqua, no? Dalle stoviglie, dai bicchieri, che danno quella sensazione che è asciutto, che è subito asciutto, no? Quell'ingrediente lì è molto inquinante. E quindi non si può mettere né nei detersivi ecologici, né tantomeno in quelli fatti in casa, perché non saprei neanche dove andare a prenderlo. Però quell'ingrediente lì cosa fa? Fa sì che appunto l'acqua scivoli via e che i bicchieri, che sono proprio quelli che si vede di più, non diventino opachi, ok? Quindi per evitare questo, usate sempre poi la soluzione a base di acido citrico, ok? Che è una cosa semplicissima da fare, perché basta che prendete una bottiglia, anche qua, che non sia identificabile, cioè non la bottiglia d'acqua cola, è successo che abbiamo ricevuto delle telefonate in cui persone hanno bevuto la bottiglia di acido citrico. Allora, l'acido citrico sapete che si utilizza anche come conservante nelle marmellate, in tantissimi prodotti, nei sott'olio, nei sott'aceti, ok? Quindi, insomma, bere... Nei cosmetici? Nei cosmetici. È ovunque, sì. Però, insomma, bersi un bicchiere di soluzione a base di acido citrico, diciamo che, insomma, non si muore, però, insomma, neanche... Non si sta subito bene. Non si sta subito bene, ecco. Quindi, mi raccomando, prendete una bottiglia apposta, la etichettate, ok? Scrivete acido citrico, soluzione a base, e anche magari con tutte le indicazioni, tutti gli usi che serve. Se, per esempio, la usate sia come decalcificante per la lavatrice che brillantante per la lavastoviglia o come anticalcare, perché questi sono tra gli usi di questa soluzione, magari ne preparate due o tre bottiglie, in modo che ne avete... Ok? Non è che ogni volta vi tocca andare da una stanza all'altra a prendervi la bottiglia, ok? Siccome questa soluzione è semplicemente, appunto, si realizza con acqua demineralizzata e acido citrico, ok? Quindi si scioglie l'acido citrico nell'acqua, adesso ve lo faccio vedere, quindi è molto semplice da fare. Conviene, diciamo, quando si acquista, si acquista il chilo di acido citrico, quindi conviene farne due o tre bottiglie, questo proprio a livello logistico. Questa soluzione è veramente indispensabile e vi toglie da casa minimo tre prodotti, ok? Tra cui il brillantante per la lavastoviglie, quindi come vi dicevo prima, questa acqua, perché diventa così più o meno, cioè è trasparente come l'acqua, la mettete, la utilizzate nella vaschetta del brillantante, la riempite, ok? E chiudete la vaschetta del brillantante. La potete utilizzare... Allora, una volta dicevano ammorbid... dicevamo, perché anch'io lo dicevo, ammorbidente, ma nelle dispense mi sa che l'hanno fatti, l'ho lasciato. Però in realtà la parola più corretta non sarebbe ammorbidente, ma sarebbe decalcificante, ok? Perché quello che fa l'acido citrico è proprio sequestrare, ok, i sali che praticamente ci sono nell'acqua. Quindi cosa fa alla lavatrice? Fa che appunto, diciamo, i panni diventano un po' meno duri, però in realtà la vera azione che fa la lavatrice è appunto toglierla dal calcare. Quindi se si usa l'ammorbidente, io consiglio una volta a settimana almeno di usare al posto dell'ammorbidente questa soluzione nella vaschetta dell'ammorbidente, riempirla, ok? Oppure una volta, dipende un po' da quante lavatrici si fa, almeno una volta al mese fare dei lavaggi a vuoto con questa soluzione a base di acido citrico. Lavaggi li faccio a 90 gradi, quando faccio il lavaggio a vuoto riempio la... prendo... riempio la vaschetta del... scusate, prendo sempre il mio barattolino dello yogurt, lo riempio e la butto tutta dentro la vaschetta o direttamente nel cestello oppure nella vaschetta del detersivo e aziono la lavatrice vuota, ok? Almeno a 90 gradi, ok? Così mi fa tutta la pulizia, ok? del calcare nella lavatrice. Un altro prodotto che si può utilizzare per questo, io li alterno infatti, è il percarbonato, perché l'acido citrico toglie, diciamo, il calcare, mentre il percarbonato igienizza, perché il percarbonato praticamente è per ossido di idrogeno, è una costigenata, ok? Ricordatevi che il percarbonato si utilizza sempre da 55 gradi in su, sotto, praticamente è come non utilizzarlo, ok? Questo in acqua calda, in pre-lavatrice. Quindi questa soluzione, abbiamo detto, come brillantante, come decalcificante, una volta alla settimana in lavatrice al posto dell'amorbidente per fare il lavaggio a vuoto, ma un altro uso fantastico di questa soluzione è che se voi vi fate una bottiglia con lo spruzzino, praticamente ci pulite il bagno, ovunque avete il calcare. Cioè, vedete, non so se c'è chi l'ha già usata, la conoscete? Cioè, veramente, cioè, confermate, io non c'ero mai a ricomprodotti quelli classici del supermercato, quando usavo ancora quelli, veramente non riuscivo a togliere una mazza, cioè calcare, mi ricordo abitavo in una casa in affitto, c'era questo rubinetto con questo calcare, il classico, che non faccio nomi, che ci siamo capiti, niente, scopro l'acido citrico, cioè, veramente è stato un miracolo, quindi, per pulire le rubinetterie, per pulire il box doccia, per pulire la macchina del caffè, per pulire il bollitore, per pulire il bollitore, per esempio, ne mettete un pochina sul fondo di soluzione, poi riempite un po' di acqua, fate andare il bollitore, e vedete, cioè, il bollitore torna perfetto, poi risciacquatelo, a me una volta mi è successo di fare la pasta, che mi ero dimenticata, con l'acqua, a base di acido citrico, mi ha detto, ma ha un strano sapore questa pasta, chissà com'è, vabbè, quindi questa soluzione, semplicemente, prendete una caraffa dosatrice, mettete un litro di acqua demineralizzata, abbiamo detto, mi hai fatto venire in mente, vedendo l'acqua demineralizzata, il ferro da stiro, quindi ti chiedo, l'acido citrico, per fare una pulizia del ferro da stiro? Certo, bene, assolutamente, ovvio che chi utilizza, magari una demineralizzata, sempre, avrà meno bisogno di cicli di lavaggio, mentre chi ogni tanto usa quella del rubinetto, una passatina, che probabilmente, dopo lì, come funziona per farlo pulire? Il ferro da stiro? Sì. Ok, ne metti, riempi la vaschetta del ferro da stiro, con l'acqua, con la soluzione a base di acido citrico, poi metti la modalità a vapore, e sto 20 minuti a fare, però potrebbe essere divertente e anti-stress. Magari non la riempi, ne metti metà, intanto già con metà, insomma la pulisce, però fai uscire vapore, e in questo modo te la deterge. Grazie, non vedo l'ora di tornare a casa, giuro. Stasera appena arrivo a casa alle 11, mio compagno mi guarderà e fa cosa stai facendo? Sto pulendo il ferro da stiro. L'ho imparato oggi. Ok, quindi riempiamo una caraffa dosatrice con un litro di acqua, abbiamo sempre la bilancia che sente l'umidità. ecco qua, e mettiamo dentro un litro di acqua demineralizzata 150 grammi di acido citrico. ecco qua. Sì, ce n'è, va bene anche questo, non importa. Prendiamo un cucchiaio, mescoliamo, lo facciamo amalgamare, l'acqua può essere eventualmente se si ha voglia anche tiepida, cioè, c'è chi lo fa con l'acqua del rubinetto, io lo sconsiglio, come ve l'ho già detto, ma magari a volte si è di fretta, non abbiamo l'acqua demineralizzata, che faccio? La faccio con l'acqua del rubinetto, allora aumento la dose dell'acido citrico, ok? Perché ovviamente, se no, una parte dell'acido citrico che ci metto è impegnato a togliermi i sali dall'acqua, è chiaro il, quindi magari aumenta a 200, quindi un litro, un litro di acqua del rubinetto con 200 grammi di acqua, scusatemi, di acido citrico, ok? Mescolo, finché, insomma, è abbastanza sciolto. Ma eventualmente, se uno ha la possibilità di avere solo l'acqua del rubinetto, oppure si è dimenticato, è tornato da casa a fare la spesa, non vuole tornare indietro, è solo quello. Sto facendo il ragionamento per quando si dà per dire l'acqua alle piante, che dicono, se la prendi dal rubinetto, falla decantare almeno un paio d'ore. Potrebbe valere anche in questo caso? Assolutamente no. No, perché, sì. Ci ho provato, amici, a raccorsare i tempi, ma non ce l'ho... diciamo che decanta da cosa? No, lì dopo diceva che faceva evaporare, eventualmente. Magari il cloro, magari, però i sali dell'acqua... No, quelli rimangono. Rimangono, e noi purtroppo, cioè, noi siamo lì a combattere con i sali dell'acqua, quindi assolutamente no. Quindi poi prendiamo la nostra bottiglia e riempiamo. Tanto per gli amici da casa che non so se riescono a sentire, è partita un sottofondo di Romagna mia, proprio pazzesco. Viva la Romagna! Non preoccupatevi se non si scioglie benissimo, subito, intanto poi con piano piano nella bottiglia si finirà di sciogliere. Ecco qua. Io ho messo lo spruzzino, se lo utilizzate come pulitore anticalcare lo spruzzino, altrimenti un tappo normale da mettere in lavanderia. Ecco, mi raccomando, l'acido citrico è un acido, ok? E come tale non va mai usato sulle pietre naturali. Quindi marmo, meglio non usarlo, cotto, legno, guai, sul legno. Io, per esempio, a casa ho un lavandino, quello della cuscina, il biancone di Asiago, non so se avete presente, è un marmo bianco. Ogni tanto, ma tipo una volta, ogni sei mesi, ok, lo spruzzo, perché, diciamo, ovviamente dal marmo è poroso, quindi da un po', insomma, si fa fatica anche a pulirlo, poi, no? e quindi, ma tipo una volta ogni sei mesi, quella volta lì e lo sciacquo subito e in effetti me lo sbianca abbastanza, però insomma, bisogna stare attenti, perché è proprio corrode, ok? Cioè, se tu lo spruzzi su una superficie che non è la sua, quella corretta, lui corrode, ok? Come corrode il calcare, corrode... Il marmo, il cotto... Assolutamente, pietre naturali, no, non si utilizza, invece ceramica, beh, acciaio è proprio il suo, anche per pulire il lavandino, per esempio, io il bagno lo pulisco prima con un altro prodotto e poi con l'acido citrico, l'acido citrico alterando il pH, quindi diciamo che è anche un detergente per i sanitari. Ecco, io ho... Tu sei stata non brava, sono stata super luce, giuro che, non lo so voi, da casa e qui presenti, io vorrei andare a casa a pulire adesso, cioè, a immedesimarmi il sito, perché in realtà ci hai fatto capire come i passaggi siano estremamente molto semplici, solo che mi rendo conto che magari certi nomi chimici spaventano molto quando non si capisce bene di che cosa si sta parlando, eccetera, quindi magari uno pensa all'autoproduzione di detersivi a casa è difficoltosa, è pericolosa, in realtà, assolutamente, sono tutti prodotti che, se dosati bene, ti garantiscono intanto un risparmio senza ombra di dubbio, allo stesso tempo ti fanno divertire comunque un pochino, perché secondo me è sempre bello mettere le mani in tasca, piccolo chimico, esatto, sia che si parli magari di alimentazione che di autoproduzione cosmetica o eventualmente dei detersivi e poi ha proprio un risparmio monetario indescrivibile. Sì, perché qua noi abbiamo già, con l'acido citrico abbiamo già eliminato appunto tre, quattro prodotti, cinque con il detersivo per impolvere e poi vabbè le tabs anche e quindi abbiamo già praticamente con quattro ingredienti e che ce ne sono rimasti perché abbiamo allieverato un cassetto della cucina. Cioè, già così con questa dose qua di detersivo già io mi faccio dieci lavatrici me le faccio tranquillamente. certo. E poi la ripetiamo. C'è una domanda dal pubblico ma io la devo ripetere perché così sentono anche i nostri amici da casa. Prego. Dove si trovano questi prodotti? Questi prodotti si trovano al MacroLibrarsi Store o sul sito di MacroLibrarsi? In realtà per par condicio noi siamo bravi e dobbiamo dire che comunque in tutti i negozi di articoli in quasi tutti i negozi di articoli naturali come MacroLibrarsi ma più brutti no lo devo dire per sbattare un atto si possono eventualmente trovare. Ok. E comunque grazie per la domanda perché non è sempre scontato soprattutto se uno si vuole avvicinare io mi rendo conto che adesso adotterò ogni tipo di soluzione che hai proposto più che altro perché io ho un grosso problema di spazio oltre che penso di essere una accumulatrice compulsiva di forse detersivi eccetera e penso oh sì oddio questo mi toglie assolutamente gli aloni ma per togliere quindi ho un vano della cucina completamente pieno di detersivi e con quattro cose e due barattoli io ho praticamente metà cucina liberata certo va bene la mia cucina è molto piccola però per dire per dire se va bene anche per pulire i vetri l'acido citrico allora c'è chi si trova bene e chi no io allora diciamo che quando lo spruzzi devi proprio subito ok e comunque devi andarci con un panno umido e quindi già lì si apre un mondo pulire il vetro con un panno umido allora sicuramente puoi fare due passaggi se sei del calcare lasciato dalla pioggia non so da che insomma sul vetro per esempio il box doccia è proprio un il classico ci vai con l'acido citrico lo fai agire poi prendi un panno e lo passi però non è detto che così togli il grasso perché l'acido citrico non sgrassa ma togli il calcare quindi devi fare il doppio passaggio prima con l'acido citrico togli la parte del calcare e poi con un detergente per eliminare il grasso comunque per pulire quindi a volte solo con l'acido citrico appunto non hai la pulizia io parlo del bagno perché l'acido citrico non è il bagno c'è anche grasso quindi non è detergente però è anticalcare sui rubinetti io ci ho pulito delle cose che voi umani veramente sono andata a pulire un appartamento per dei persone ucraine che venivano l'anno scorso quando è iniziato è un appartamento che non era vissuto da non so quanto tempo e loro mi proponevano tieni usa questo io con il mio sacchettino non ho io l'acido citrico e quindi ho pulito tutto con l'acido citrico e anche loro hanno detto ma scusami il water c'è un water che vi lascio solo pensare quindi questo qui è anche tipo per le incrostazioni quelle belle 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 incrostazioni gialle da water se sono proprio cose molto molto vecchie così io ci vado direttamente con la polvere quindi proprio passo la polvere l'acido citrico proprio schietto lo lascio agire ma rispruzzo un po' di acqua per farlo un po' agire e poi lo lascio lì per un po' però anche direttamente con la polvere se proprio è un'incrostazione che è lì da tanto sono arrivate una serie di domande a Raffica sei pronta? vai allora la prima per cronologicamente parlando ho avuto in passato problemi con detersivi in polvere per lavatrici sfusi ed ecologici è possibile renderli più liquidi dalla polvere al liquido? deve passare al liquido se si trova male con la polvere ci sono persone potresti non trovarsi bene ovviamente con la polvere perché non tutte le lavatrici lo sciolgo quello che vi dicevo all'inizio bisogna un po' provare perché la polvere non per tutte le acque le lavatrici è corretta quindi la risposta è che se non si trova bene con le polveri deve passare al liquido capi scuri il detersivo in polvere lo consigli? sì anche per i capi scuri magari essendoci per carbonato ma ce n'è comunque in dosi non eccessive possiamo possiamo un po' ridurre un po' le dosi rispetto a quelle che ci sono in dispensa poi c'è differenza tra acido citrico ad uso alimentare rispetto a quello per l'autoproduzione? allora come ingrediente in se stesso no c'è la differenza del confezionamento cioè quello alimentare viene confezionato in locali adibiti al confezionamento alimentare quello per la detergenza viene diciamo stoccato e anche confezionato in ambienti non ideali per l'alimentazione quindi può essere contaminato anche pochissimo ma da altre cose poi ce n'è una che mi ha fatto un sacco sorridere spero lo faccia anche con te serve più olio di gomito con i detersivi autoprodotti? beh insomma è il sogno di ogni donna secondo me oddio no di ogni persona non si deve dire di ogni donna fare palestra allo stesso tempo però io l'ho trovata una cosa molto facile esatto forse ci si mette più olio di gomito a preparare una torta fatta in casa senza ombra di dubbio cioè strapattare uova o montare gli albumi mezz'ora cioè parlando 35 minuti e ho fatto tutto ma parlando tu sei molto veloce si vede bene che sai destreggiarti molto bene in queste cose infatti volevo far vedere se era possibile che si sono solidificati già abbastanza queste tabs un po' sì anche se rimangono un pochino lucidine sì non sono ancora ben asciutte però vedete che insomma si stanno si stanno pian piano solidificando ora ti faccio io una domanda che non viene dal pubblico ma una mia curiosità personale vedete queste queste parti qua che si staccano voi prendete un sacchettino oppure dove le confezioni dove le terrete ecco non buttatele usatele ok mi raccomando quanto si risparmia secondo te nell'arco di non si può dire di mesi parliamo di anno annualmente circa non ho mai fatto conti precisi però hai annotato però si risparmia tanto perché poi non sono entrata nel merito dell'uso singolo di questi prodotti però comunque sia il carbonato che il percarbonato che l'acido citrico per ognuno di loro si potrebbe aprire un altro capitolo perché per esempio il percarbonato il percarbonato e il carbonato sostituiscono per esempio i vari additivi anche quelli che si trovano in commercio non so il vanish per esempio questo tipo di prodotti qua vengono che costano anche tanti soldi tra l'altro possono essere sostituiti tranquillamente dal percarbonato e questo è mezzo chilo che diciamo adesso il percarbonato come costi siamo sui 7 euro al chilo più o meno chi più chi meno ovviamente però più o meno siamo sui 7 al chilo sì 7-8 al chilo cioè con un chilo di percarbonato che ho speso 8 euro ci faccio tutte queste cose lo utilizzo per esempio se faccio i panni bianchi per esempio faccio il bucato dei bianchi e mi sono fatta in casa quello posso utilizzare quello e magari con i bianchi aggiungere un po' di percarbonato quindi mi fa anche da additivo aggiuntivo alla lavatrice oppure per farli ammolli per esempio sempre con i bianchi diciamo si può fare anche con i colorati però bisogna usarne poco di percarbonato quindi mi sono risparmiata anche il detersivo per il pre-ammollo perché faccio con il percarbonato l'acido citrico abbiamo visto tutti i vari utilizzi e il carbonato per esempio è uno smacchiante quindi ogni volta che ho qualche macchia particolarmente insomma noiosa anche sui pavimenti per esempio avete presente i vialetti delle case che magari piove tanto si creano delle macchie di muffa o comunque il verde il carbonato il carbonato ok quello che si chiama anche soda da bucato è un fantastico si butta proprio sulla macchia sul vialetto e si lascia agire poi con un po' di acqua la si pulisce quindi e ti sei risparmiato cioè così con questi prodotti qua veramente risparmi tempo secondo me perché come avete visto è una cosa molto veloce però ha anche tanto spazio e anche tanti soldi sinceramente per non parlare poi della parte ecologica che insomma diciamo l'ho data un po' per scontata si tratta di ingredienti molto sì noi l'abbiamo dato per scontata penso tutti la stessa lingua però anche a livello di impatto ambientale di biodegradabilità sicuramente questi sono ingredienti che o hanno impatto zero sulle falde acquifere e tutto il discorso delle zero è impossibile perché comunque non lo siamo nemmeno noi però comunque è molto esatto molto più ridotto sì però se non c'entra molto con questo no non c'entra ma questi prodotti qua o uno di questi prodotti può essere utile o se uno di questi prodotti può essere utile per le muffe dei muri secondo me si apre un altro un vaso di Pandora che eventualmente se ci sono delle piccole piccole infiltrazioni di muffa ma parlo proprio di cose può essere utile l'acqua assigenata il perossido di idrogeno quella che si usa per le ferite da tamponare cioè prendi un po' di cotone e tamponi in caso in cui la muffa no ci sono servono proprio degli interventi specifici sul muro purtroppo il percarbonato è a base di acqua assigenata però comunque lui la polvere non è adatta in caso proprio l'acqua assigenata la bottiglietta però deve essere proprio una cosa minima io Giulia ti ringrazio è stato illuminante sei stata solare infatti è venuto fuori sole quindi grazie a Giulia doppiamente è stato molto bello vedere queste cose assieme a te spero di rivederti anche in altre occasioni non solo all'interno dell'autoproduzione speriamo comunque che l'anno prossimo ci sia ancora più spazio per l'autoproduzione facciamo lo svizziamo facciamo la doppia facciamo l'altra comunque dove ti possono trovare i nostri spettatori telespettatori amici amiche allora io ho un normale profilo facebook però non è che pubblico ti dico la verità non sono molto social sono un po' però il mio profilo facebook è Giulia Landini se volete chiedermi l'amicizia molto volentieri come si fa? poi scrivo in giro tornati in sole allora io ringrazio Giulia Landini ringrazio voi per non aver mollato ringrazio i vostri sorrisi perché vi giuro che mi stanno scaldando nonostante sto battendo i denti da due ore e noi ci vediamo fra poco con De Alma Franceschetti ma intanto lascio la parola alla mia collega Francesca che uscito il sole sarà uscita anche lei a girare per la festa e sarà il collegamento in diretta noi ci vediamo fra poco alle 15.20 con De Alma Franceschetti grazie a tutti ciao 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 ciao